Mi avete chiamato? Ya! Ero sul posto Ha una lacerazione del ventricolo destro e potrebbe esserci un'emorregia torrenziale quando andremo dentro perciò volevo... volevo un piccolo aiuto Solo un aiuto in più Non so se posso farcela Sono pronto Arrivo, vado a lavarmi Va bene, mettiamo un bypass a questo ragazzo